Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come ottimizzare al meglio Windows 11 grazie a questa piccola applicazione della Microsoft PC Manager. In descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo setup. Ti clicchi sopra e cominci a installare l'applicazione, ti clicchi sopra sull'applicazione PC Manager e di lato, a destra, si aprirà così una schedina. Questo è l'uso della memoria RAM e i file temporanei, tu ci clicchi sopra, busti un po' la memoria RAM e elimini così i file immondizia. Poi qua sotto abbiamo l'uso del nostro spazio che c'è rimasto, tutti i programmi in processo, quindi in questo caso io ho BS Studio aperto perché sto registrando e altre applicazioni che non mi servono come Xbox Game Bar, lo togliamo, widget lo togliamo, Namek è per l'audio, io ho questo Xbox, ovviamente lo chiudo e si riapre e poi ci sono le start-up applicazioni che si avviano quando accendi il tuo PC. Io ho questo per l'audio, per lo schermo, ho rimosso così Creative Cloud per Adobe, questo per, sempre per Adobe, Vanguard Drive Notification, questo l'ho tolto, Windows Security bisogna tenerlo attivo per la sicurezza del nostro sistema, wallpaper per gli sfondi, se lo tolgo e quando vado ad accendere il PC non mi si carica così lo sfondo animato. Qui invece c'è la sicurezza, Windows Update per capire se devi fare qualche aggiornamento, faccio su Update, comincio a scaricare e installa così gli aggiornamenti, puoi fare anche una scansione con l'antivirus, come puoi vedere sta facendo scanning, sta scannerizzando se c'è qualche problema oppure una minaccia nel sistema, quindi se questo programma ti interessa, come puoi vedere mi ha dato altri file immondizie perché ho scaricato gli aggiornamenti e sto facendo anche l'analisi con Windows Defender, faccio il boost, aumentiamo un po' le prestazioni. Se ti può interessare questa applicazione puoi scaricarla e se ti è stato utilissimo questo video iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!